Salve a tutti, oggi 3 febbraio 2022 intervistiamo qui accompagnato delle foreste Davide Pettenella, docente di economia forestale presso l'Università degli Studi di Padova e coordinatore del tavolo tecnico che ha prodotto la strategia forestale nazionale. Il motivo dell'intervista è che il professor Pettenella è proprio qui per il suo ruolo di coordinatore del tavolo tecnico che lo rende il più profondo conoscitore di ogni aspetto della strategia forestale nazionale. Benvenuto professor Pettenella e grazie per essere qui con noi. Grazie dell'invito. Professor Pettenella, ci può parlare dei contenuti innovativi della strategia forestale nazionale per rompere il ghiaccio? Sì, io penso che ci siano almeno tre aspetti innovativi in questo documento. Il primo, la scala temporale. Abbiamo un documento di programmazione ventennale. Sono rari i documenti di questo tipo che vengono approvate da soggetti pubblici non solo in Italia. Ed è la scala giusta quando noi pensiamo a un settore che ha tempi di adattamento significativi, molto molto lunghi. Il secondo aspetto innovativo è nel metodo. Un metodo di lavoro giustamente, necessariamente partecipato che ci ha preso parecchio tempo. Il tempo è stato lungo di elaborazione, di approvazione, ma è stato un processo utile, importante che ha portato a un miglioramento significativo del documento. Siamo partiti nel nostro lavoro nell'aprile del 2019. Abbiamo avuto tre momenti pubblici. Abbiamo fatto anche noi l'esperienza del covid, sette webinar su scala nazionale. Siamo andati alla predisposizione di un primo draft che abbiamo reso pubblico. Abbiamo creato una piattaforma per la consultazione dei portatori di interesse. Abbiamo avuto 296 suggerimenti, commenti, critiche al documento. Abbiamo letto con molta attenzione e lavorato in un documento di risposta puntuale alle domande, le critiche fatte. Abbiamo rivisto il paper, il documento nella sua struttura e l'abbiamo di nuovo migliorato in una serie di ben nove riunioni di un comitato tecnico costituito da 40 persone, quindi con una rappresentatività del sistema foresta legno italiano e delle istituzioni, dei soggetti privati, estremamente ampi. Siamo giunti all'approvazione sul piano tecnico del documento nel giugno del 2021 e poi abbiamo avuto il complesso, lungo, importante, processo di approvazione istituzionale. Quattro ministri, oltre ovviamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il documento è stato letto, rivisto e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero della Cultura, ex Ministero dei Beni Ambientali e Culturali e dal Ministero ovviamente della Transizione Ecologica. Ecco, quindi un documento che è frutto veramente del lavoro di più umani e io devo ringraziare tutti, a partire dalla direzione Economia Montana e Foreste, dalla sua direttrice, che ha molto lavorato con passione a questo documento, al CREA, che ha offerto un lavoro splendido di segreteria, alla segreteria tecnica del tavolo e a tutti i membri del tavolo, oltre a tutte le persone di buona volontà che hanno partecipato al miglioramento del documento. E infine i contenuti, ovviamente i contenuti sono alla fine l'elemento cardine del piano, ma su questo forse è opportuno che tu Paolo mi chieda qualcosa di più in particolare. Certo, farò una domanda soprattutto perché, farò più di una domanda, ma la strategia forestale nazionale sarà una specie di bussola per orientare le attività dei ministeri, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali, dei professionisti, delle imprese, delle aziende forestali, quindi sarà importante cercare di capirla. Sicuramente l'approfondiremo nei prossimi mesi, ma in questa intervista mi prevene iniziare chiedendo quali sono i principali obiettivi che mette in campo la strategia forestale nazionale. La strategia ha seguito un modello di riferimento, che è la strategia forestale dell'Unione Europea. Non potevamo fare altrimenti. Come la strategia forestale europea, anche la strategia forestale nazionale ha tre grandi obiettivi. In parte con accentuazioni diverse rispetto a quella della strategia forestale dell'Unione Europea, ma che considerano tre grandi tematiche, tre grandi aspetti. Allora, il primo obiettivo è quello della gestione attiva, sostenibile, multifunzionale delle foreste. Al di là dell'aggettivazione, ci potrebbe essere molto da discutere, il primo obiettivo è quello che riguarda le modalità tecniche, organizzative, di tutela del nostro patrimonio forestale. Tutela e conservazione coniugate con dove è opportuno e necessario la gestione attiva delle foreste. Il secondo obiettivo è quello più strettamente di carattere economico, dove la visione economica, gli aspetti economici che vengono considerati non sono ovviamente soltanto quelli della filiera legno o della filiera delle biomasse a uso energetico, ma sono tutte le dimensioni economiche, anche nella logica di economia pubblica, che riguardano la gestione dei nostri boschi. E quindi lo sviluppo rurale, quindi lo sviluppo delle aree interne, delle aree montane, ma anche delle aree periurbane e urbane dove è possibile e opportuno realizzare interventi nel settore forestale. E infine il terzo obiettivo è quello che sinteticamente si può rappresentare con l'idea della conoscenza e dell'informazione, della comunicazione. Tra l'altro un obiettivo su cui ovviamente Sherwood non può che essere particolarmente interessato. Creare informazione, informazione statistica, ma anche informazione sull'innovazione, quindi ricerca, ricerca e trasferimento, ma comunicazione, ma anche informazione da scambiare, quindi collaborazione istituzionale per meglio valorizzare l'insieme di idee, di proposte, di conoscenze che si maturano nel settore forestale. Questi tre grandi architravi in termini di obiettivi della strategia. A parte, oltre diciamo alla strategia forestale europea, ci sono altri documenti di cui si è tenuto conto all'interno della strategia forestale nazionale. Immagino sia in un contesto non soltanto europeo, ma anche internazionale. Assolutamente, assolutamente. In effetti c'è stata una felice coincidenza, nel senso che abbiamo elaborato la strategia mentre si stavano approvando dei documenti di grandissima rilevanza e importanza a livello internazionale, che davano input significativi al modo di riflettere e ai contenuti di una proposta relativa al modo con cui dobbiamo gestire le nostre risorse. perché ricordiamo i documenti approvati dalla Commissione europea, la farm to fork strategy, la strategia dall'azienda alla forchetta, nel senso la strategia relativa alla gestione di tutte le tematiche legate allo sviluppo rurale e all'utilizzo delle risorse rurali per la filiera del cibo, ma anche la strategia per la tutela a livello internazionale delle foreste, così come la strategia dell'Unione europea per la tutela della biodiversità. In questi ultimi tre anni, quindi 2018, 19, 20, che hanno preceduto il momento di approvazione della strategia forestale nazionale, sono stati anche approvati documenti molto importanti nel campo della gestione delle politiche per i cambiamenti climatici e quindi anche nel campo dell'impiego delle energie rinnovabili e quindi una considerazione particolare alla tematica delle biomasse. A livello internazionale abbiamo avuto anche momenti molto importanti come ovviamente la COP di Glasgow e anche l'ultima COP organizzata in due momenti della Convenzione per la Biodiversità. Ecco, tutti momenti internazionali in cui sono stati approvati documenti che in un modo o nell'altro portavano a una visione settoriale, specifica, dei valori particolari delle risorse forestali. E la strategia forestale nazionale non ha fatto altro che tenere in considerazione tutti questi input di idee, queste raccomandazioni, ma anche questi vincoli che ci venivano dal contesto internazionale per portarli a sintesi. E questo è stato il lavoro non facile. Un'idea complessiva sotto il New Green Deal del ruolo che le foreste possano giocare sia per proteggere e tutelare la biodiversità, sia per assicurare il processo di decarbonizzazione. Il processo di decarbonizzazione, ricordiamoci, non significa soltanto sostituire combustibili fossili con risorse rinnovabili, ma significa anche sostituire tutte le risorse fossili che stiamo utilizzando nel campo delle produzioni della plastica, delle produzioni tessili, farmaceutiche, in genere della chimica verde, con biomasse. Tutte le suggestioni che venivano anche dalle politiche legate a crescere il ruolo delle foreste nella fissazione di carbonio e nella sostituzione di combustibili fossili. Ecco, portare tutte queste idee a sintesi, dando delle indicazioni, che evidentemente saranno anche delle raccomandazioni utili per le regioni e le province autonome, per impostare le linee di intervento nel settore forestale su una scala subnazionale. Ecco, accanto a questa scala internazionale e anche di pensiero alto rispetto a quello che può essere il contributo delle foreste e della strategia forestale nazionale alla sostenibilità della nostra specie in questo pianeta, poi la strategia forestale nazionale discende dagli obiettivi tutta una serie di azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi. Ecco, potrebbe dirci come è stata organizzata l'insieme delle azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi? Sì, questa è una tematica che ovviamente è stata molto dibattuta all'interno del comitato tecnico e anche nei processi di consultazione pubblica. Alla fine abbiamo pensato di organizzare la parte più di taglio propositivo in tre gruppi di azioni. Le azioni operative, un gruppo di azioni operative relative ai tre obiettivi che prima ricordavo. Il cosa fare concretamente per il primo obiettivo e quindi per il primo obiettivo grande attenzione è stata data alle azioni nel campo della programmazione e pianificazione forestale, alle modalità per arrivare a forme di pagamento dei servizi ecosistemici, gli interventi per la difesa dei nostri boschi, in primis ma non soltanto dagli incendi, gli aspetti più specifici legati alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi forestali, quindi il discorso per esempio anche innovativo dei boschi vetusti, il problema del miglioramento genetico e della conservazione del patrimonio genetico delle nostre foreste, l'iniziativa ovviamente legata alla mitigazione e cambiamento climatico e il tema importante per il contesto italiano forestale della gestione dei rimboschimenti. Per il secondo obiettivo, quello più legato alle filiere, abbiamo previsto tutta una serie di azioni di promozione delle filiere su scala locale, di qualificazione degli operatori e di miglioramento della capacità operativa delle imprese boschive. Abbiamo avuto una serie di azioni specifiche sui servizi socioculturali dei boschi, abbiamo definito linee di intervento specifiche relative alla tracciabilità dei prodotti forestali e infine abbiamo dato indicazioni per il settore non soltanto dell'offerta, ma della domanda di prodotti e servizi forestali, quindi abbiamo dato indicazioni operative sui consumi e gli acquisti responsabili. Per il terzo obiettivo, quello dell'informazione, ovviamente le indicazioni sono state relative all'attivazione del sistema di ricerca, sperimentazione e trasferimento. Abbiamo toccato il tema dell'informazione, responsabilità sociale e ambientale delle imprese, corporate social responsibility e infine un'attenzione è stata data alla dimensione internazionale delle politiche forestali, al ruolo che l'Italia ha in termini di responsabilità negli acquisti, ma anche nella promozione della cooperazione internazionale in campo forestale. Queste le azioni che abbiamo chiamato le azioni operative, quelle più centrali. A questo gruppo di azioni abbiamo affiancato delle azioni specifiche su alcuni argomenti molto particolari che volevamo mettere a fuoco e un piccolo gruppo di azioni che abbiamo chiamato azioni strumentali. Senza entrare nel dettaglio, le azioni specifiche sono per esempio quelle come gestiamo, come dovremmo gestire gli eventi estremi. Tenete in considerazione che questo lavoro di predisposizione della strategia è avvenuto a ridosso immediato di vaia, ma anche dei due grandi anni, dei due importanti anni per gli incendi boschivi. Ecco, abbiamo ritenuto importante definire e toccare questo argomento, così come abbiamo voluto affrontare più in particolare l'argomento dell'arboricoltura da legno e della piopicoltura, dei boschi vetusti, dei boschi ripariali e planiziali, dell'agroservicoltura e altri temi, sono una decina queste azioni specifiche. Infine, le azioni strumentali. Le azioni strumentali sono le azioni legate al riorganizzazione delle istituzioni statali, centrali dello Stato, nel rapporto con le regioni per poter attivare il processo di pianificazione. E quindi l'azione strumentale è fondamentale del monitoraggio e delle statistiche forestali, l'adeguamento del quadro normativo, il miglioramento e l'attivazione di istituzioni per il coordinamento e la programmazione interistituzionale, il consolidamento dei processi di consultazione, e infine l'idea del cluster dei cluster del legno, il cluster dei distretti del legno. Ecco, un'organizzazione su scala nazionale che possa mettere in sinergia le diverse iniziative su scala regionale e locale di promozione dei distretti industriali del legno. Ecco, allora, il quadro che è stato fatto dei tre principali obiettivi delle cinque categorie di azioni, dà l'idea di una planificazione... Sono tre categorie, sì, non cinque. Sì, è vero, sono tre categorie. Sono molte le attività, sono veramente molte. Come si pensa di verificare se la strategia viene applicata, se la strategia forestale nazionale viene applicata e in che misura? C'è una strategia già adesso oppure dovrà essere costruita per strada? Molto importante questa domanda che fai. Quando ci siamo ritrovati alla fine del lavoro con un documento di 70 pagine, abbiamo detto, ma dobbiamo anche essere un po' efficaci nella comunicazione, perché non tutti coloro che possono essere interessati al settore forestale avranno tempo di leggerci 70 pagine. Quindi abbiamo dovuto fare una selezione degli argomenti più importanti e mettere molto materiale in allegato. Come spesso sappiamo, è nelle note, negli allegati, che molto spesso si concentra la qualità. Quindi al lettore attento e appassionato consiglierei evidentemente di spendere un po' di tempo nel leggere gli allegati. Però nel testo, molto veloce, molto rapido, saranno una ventina, trentina di pagine al massimo, che costituisce l'elemento centrale del documento della strategia, abbiamo mantenuto un capitolo sul monitoraggio e la valutazione. Ogni azione è stata accompagnata da una serie di indicatori che serviranno per il monitoraggio e il monitoraggio stesso è organizzato, vi ricordavo che l'orizzonte temporale della strategia è 20 anni, in quattro periodi di cinque anni. E quindi per il primo quinquennio abbiamo già individuato quelli che saranno gli indicatori da utilizzare per capire quanto dell'indicazione della strategia sarà effettivamente stata raggiunta in termini di obiettivi, promosso, attivato in termini di soggetti e risorse rese disponibili per la strategia stessa. Ecco, questo è l'ultimo capitolo della parte centrale della strategia. Bene, adesso chiudiamo questa intervista con una domanda personale e la domanda è facciamo il gioco della torre, la domanda è ipotizziamo che un politico folle decida di affossare la strategia forestale nazionale tranne una sola azione che verrà finanziata adeguatamente. Quale varrebbe la pena salvare? Questa è la domanda più difficile che potevi farmi perché evidentemente avendo io lavorato per diversi mesi sulle virgole e sugli aggettivi e sui contenuti ho care moltissimi dei contenuti stessi della strategia. Selezionare selezionare uno è operazione riduttiva difficilissima fra l'altro sai che nella mia posizione di ricercatore amo la complessità e sono assolutamente convinto che dobbiamo avere nello stesso tempo la visione della complessità e la capacità di fare sintesi. Però i docenti universitari generalmente sul secondo aspetto sono molto deboli. Comunque ci provo. Dai. A mio avviso l'azione più importante è l'azione strumentale relativa al coordinamento interistituzionale e alla capacità di collaborazione interistituzionale. Perché io penso che questo sia la condizione sine qua non per uno Stato e ho una visione dello Stato nel senso di le componenti che lo costituiscono dalla presidenza della Repubblica al piccolo comune di cento anime della montagna interna. Ecco mettere insieme le istituzioni le loro risorse che sono in primis risorse umane ma sono anche risorse umane finanziarie e normative. Coordinarle farle dialogare applicare il principio costituzionale della leale collaborazione. E quindi fare in grande quel lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per definire la strategia ma farlo quando la strategia debba essere resa operativa. Ecco per me questo è un passo assolutamente fondamentale quello del dialogo quello della capacità di trovare con equilibrio la mediazione e sappiamo quanti grandi conflitti stanno dietro le scelte che dovranno maturare per attivare la strategia pensata a quelle che ho già accennato sviluppo della bioeconomia ma nello stesso tempo tutela della biodiversità valorizzazione del legname da opera e quindi del settore delle costruzioni dei mobili ma nello stesso tempo attenzione alle rinnovabili quante scelte difficili quanti compromessi basati sul buon senso sulla ragione sulla capacità del dialogo saremmo chiamati a fare ci sono due elementi che mi permettono di dire forse possiamo guardare con un rinnovato ottimismo a queste scelte di dialogo e di compromesso che dovremmo fare il primo elemento è che abbiamo 11 milioni di foreste un terzo del patrimonio forestale l'Italia è un paese forestale anche se molti italiani non lo sanno le risorse ci sono possiamo soddisfare molti bisogni e secondo che finalmente abbiamo un'attenzione economica e degli operatori istituzionali nuova verso il settore forestale non abbiamo mai avuto nel recente passato una amministrazione centrale così dinamica in questo settore non abbiamo mai avuto tanti elementi di attenzione e non abbiamo avuto mai tante risorse teoricamente disponibili per il settore forestale è vero il PNRR non parla molto di foreste però lascia aperte delle possibilità abbiamo i piani di sviluppo rurale abbiamo la programmazione nel settore agricolo abbiamo altre risorse che ci vengono dalle linee di finanziamento per la tutela ambientale i progetti LIFE abbiamo le possibilità di collaborazione internazionale con i progetti interreg abbiamo delle risorse autonome che nel bilancio dello Stato sono state date specificatamente per l'attuazione della strategia forestale nazionale e questi sono grandi cambiamenti si respira un'aria nuova io penso che dobbiamo metterci tutti nella stato d'animo di collaborare insieme lavorare insieme perché realmente le foreste possono costituire un elemento di rinascita di questo paese sia in termini di rinascita dell'economia delle aree interne delle aree rurali sia di riscoperta del valore per la salute e il benessere dei cittadini che vivono in aree urbane ma anche per l'economia e l'innovazione e la capacità inventiva degli italiani nel produrre prodotti e servizi del tutto nuovi che possono contribuire veramente al nostro benessere certo concordo sul fatto che il filo conduttore di ciò che è avvenuto in questi ultimi anni nel settore forestale sia stata proprio la collaborazione proprio una novità che prima non conoscevamo la partecipazione dei vari attori talvolta che sono stati anche in contraposizione l'uno con l'altro che poi in alcuni prodotti normativi si sono trovati in qualche maniera a confrontarsi a trovare delle soluzioni comuni io ringrazio il professor Pertinella e a questo punto non resta che concludere ricordando che la strategia forestale nazionale sarà un faro per le attività di chiunque a qualunque titolo a qualunque titolo opera ed opererà nei prossimi anni nel settore forestale conoscerla in generale e approfondire gli ambiti di interesse personale sarà un modo secondo me di dare un contributo consapevole al miglioramento delle foreste e la crescita economica organizzativa e culturale di tutto il settore ringrazio ancora il professor Pertinella per averci concesso questa intervista e auguro a tutti buona lettura e soprattutto buona applicazione della strategia forestale nazionale grazie a tutti